È una doppia beffa quella in cui potrebbero incappare i residenti degli alloggi antisismici della frazione Aquilana di Arischia. Secondo quanto appreso, infatti, per circa 50 famiglie si profila all'orizzonte l'ipotesi di un doppio sfratto. I nuclei, infatti, rientrano nel provvedimento di sgombero firmato a novembre dal sindaco Cialente, a causa della pericolosità dei balconi delle New Town. Risultati difettosi a seguito dei controlli tecnici. Ricordiamo che sulla vicenda dei balconi la magistratura aquilana ha aperto anche un fascicolo d'inchiesta. Le famiglie di Arischia, però, rischiano di dover fare i conti anche con un altro problema, ovvero quello dell'amorosità delle bollette delle utenze non saldate. Se non dovessero riuscire a saldare il debito, infatti, per il comune non sarebbe possibile ospitarli in altri alloggi. Lo ha spiegato a chiare lettere anche il sindaco Cialente, parlando di scelta obbligata, alla luce anche dell'inchiesta della Corte dei Conti per i mancati introite nelle casse comunali per le bollette e la vicenda, ancora tutta aperta da chiarire, della transazione da 9 milioni di euro con Enel Energia, il cui credito è stato ceduto alla società Banca Sistema. Per coloro che invece sono in regola con i versamenti, la soluzione è già stata individuata. Saranno ospitati nelle map, ovvero le casette in legno, realizzate proprio nella fazione di Arischia, in attesa che gli alloggi del progetto case vengano riparati. In alcuni casi, addirittura, i balconi dovranno essere rimossi. Una nuova grana, insomma, per i cittadini che a 6 anni aspettano di rientrare nelle proprie abitazioni e, al tempo stesso, per l'amministrazione comunale, che dovrà fare i conti, probabilmente, con una nuova emergenza sociale, oltre che abitativa.